Il cristianesimo è la religione della fede, cioè credo in ciò che non vedo. L'ebraismo è un sistema di pensiero basato sulla fiducia, cioè basato su un patto. Quindi l'ebraismo giustamente dice noi abbiamo fatto un patto, perché ci è stato proposto, con questo Yahweh. Lasciamo stare per il momento che sia, in questo momento non ci interessa. Noi cerchiamo di fare e di rispettare alla lettera la nostra parte del patto e Yahweh, prima o poi, deve rispettare la sua. Quindi se noi facciamo ciò che lui ci ha chiesto, lui deve fare e dovrà fare ciò che ha promesso. Quindi non è tanto un discorso di credo in ciò che non vedo, ma ho fiducia nel fatto che l'altro contraente del patto, dell'alleanza, rispetterà la sua parte. Quindi sono due forme di pensiero totalmente diverse.